Parlare di una pietra miliare di Audi sembrerebbe quasi scontato, comunque eccola qui la nuova A6, una vettura che come sempre si presenta al pubblico nella versione 3 volumi, berlina classicamente, poi arriverà la station wagon e poi arriveranno anche le versioni ormai conosciute RRS per cui prestazionalissime. La nuova A6, naturalmente non si perde la strada della continuità, questo ormai è un assunto in casa Audi, Volkswagen, nel gruppo non si stravolge mai, si prosegue nella strada in un affinamento direi quasi maniacale di quelle che sono linee, temi e stilemi. Vi è un grande incremento in termini di qualità, di attenzione nei dettagli, nelle pelli, nella scelta e soprattutto nel concetto individuale per cui creare una vettura un po' su misura. È vero che i listini diventano sempre più grandi, sempre più complicati se volete da interpretare e questo non è certo un punto a favore di queste berline che farebbero bene ad avere dei pacchetti, ci sono in effetti, ma un po' più concreti, un po' più funzionali a quelle che sono le idee dell'utente e soprattutto di chi sceglie queste automobili. È una vettura che ha un grandissimo equilibrio di linee, di fascino, di continuità, un equilibrio, la parola equilibrio appunto è forse la cosa perfetta, quella che calza meglio all'Audi A6 perché in effetti l'equilibrio non è solo estetico, è anche funzionale, dinamico e nell'ergonomia degli interni che anche essi non vengono stravolti ma come detto si impreziosiscono di qualità e di tecnologia da un punto di vista dell'ergonomia e poi ha un equilibrio se vogliamo dire perfetto quasi anche sulla strada. Poi l'equilibrio lo fanno anche i motori, le varie declinazioni, il cambio, gli accoppiamenti e questo fa parte di un programma che coinvolge la A6 a tutti i livelli, dinamicamente, tecnicamente e anche tecnologicamente. Inutile parlare delle nuove tecnologie perché ci sono, tutte quelle che oggi servono per rendere la guida più sicura, più attenta per cui i sistemi di anticollisione, i sistemi che prevengono gli sbandamenti e quant'altro. Questa è la nuova frontiera? Quello che ci interesserebbe vedere su queste nuove Audi è sicuramente nuova tecnologia. Ibrida, plug-in arriverà ma soprattutto scopriremo se c'è qualche cosa di nascosto che ancora non sappiamo e che verrà svelato naturalmente fra pochi giorni a Ginevra.